Francesco De Sanctis. Stasera parliamo appunto di questo intellettuale, critico e storico della letteratura italiana, importantissimo, fondamentale. Qui abbiamo addirittura l'albero genealogico di Francesco De Sanctis, è nato a Morra, che è un paese nell'entroterra della campagna, che addirittura oggi si chiama Morra De Sanctis perché appunto ha dato in Natalia questo grande, è stato un grande appunto della nostra cultura dell'ottocento, del risorgimento e della letteratura italiana. Qui abbiamo, dicevamo, tutto l'albero genealogico, era nato nel 1817 a Morra, morì poi a Napoli nel 1883. Morra è il paese dei ricordi mai perduti, tra l'altro lui incominciò a insegnare proprio nel suo paese, quindi a Morra. Venne il settembre e zio, veggendomi così scheletrito, voleva farmi bere un po' d'aria nativa. Andammo, zio Pietro, Giovannino ed io, non sapevo di amar tanto il mio paese. Quando di sopra la via nuova vidi un mucchio di case bianche, mi sentii ricercare le fibre. Non so ricreare, credo che sia comunque un errore di stampa. Non so che nuovo mi batteva il core. Ecco, dobbiamo ricordare una cosa, che tra le ultime opere che ha scritto Francesco De Sanctis, c'è un'opera autobiografica, che lui ha intitolato così, La Giovinezza. Leggiamo i suoi testi, perché una delle caratteristiche proprio dei testi di Francesco De Sanctis è di essere molto scorrevoli, molto gradevoli e comprensibili anche un secolo e passa da quando li ha scritti. Ecco, lo zio è stato molto importante, l'abbiamo visto anche in quel testo, insomma, che abbiamo letto insieme, nella sua formazione. Infatti si dilettava di letteratura, lo zio. Aveva una scuola privata di lettere. I corsi duravano cinque anni. Il programma era basato sulla spiegazione dei testi latini e sull'apprendimento mnemonico dei vari brani. Ecco, qui si forma Francesco De Sanctis. E qui, insomma, racconta nella giovinezza anche tantissimi altri particolari, sulle vie, sulle strade, sulle persone, per esempio l'abate Lorenzo Fazzini, che anche lui è stato molto importante per la formazione di Francesco De Sanctis. Zio ci menò presso l'abate Fazzini. Bel palazzo, bella casa. L'abate ci ricevette nella stanza da scuola e ci fece molte carezze e ci diede i confetti. Era un bello metto, vestito di nero, con cravatta nera, tutto bene spolverato. Parlava spedito e accompagnava la parola col sorriso e col gesto elegante. Non c'era ancora il laico, ma non c'era più il prete. Ecco, diciamo che è uno dei personaggi che, vedete, riesce a descrivere anche in maniera estremamente colorita. Lui era diventato sacerdote nel 1809, ma di fatto era un intellettuale. Seguì corsi di filosofia, di fisica, di matematica. Grazie a queste frequentazioni, Francesco De Sanctis si accostò anche alle filosofie e alla scienza di derivazione francese. Ha tantissimi autori importanti. Ah, ecco, ma Basilio Puoti, indubbiamente, fu importante ancora di più per la formazione di Francesco De Sanctis. Lui, ecco, perché si passa appunto da questa zona, insomma, un po' più di provincia, a Napoli, che allora, l'abbiamo già ricordato anche nelle puntate di storia che stiamo facendo, era una capitale importante ed era la città anche più popolata d'Italia persino. Basilio Puoti era un acuto studioso della lingua italiana e tenne a Napoli, sin dal 1825, una scuola nella quale educava i giovani in senso puristico, allo studio severo dei classici antichi e dei trecentisti e anche, senza apertamente proporselo, a sentimenti patriottici. Quindi, in quel caso, nel caso di Basilio Puoti, una formazione sicuramente sotto l'aspetto appunto ancora letterario, molto molto importante, veramente una specie di filantropo questo Basilio Puoti, ma anche una formazione da un punto di vista politico. Insomma, Francesco De Sanctis si accosta sempre di più a quelle che sono le idee appunto risorgimentali del tempo, oscillando un po' fra il partito un pochettino più rivoluzionario Mazziniano e il partito d'azione Garibaldino, più incline al compromesso. Ecco, il Marchese era veramente un purista, un illuminista, era intento a compilare una grammatica a uso dei giovanetti e si giovava dei miei studi, della mia erudizione, mi presentò alla sua famiglia e più volte mi tenne a pranzo seco con lui. Mi avevano posto per soprannome il grammatico. Insomma, Francesco De Sanctis, sin da giovan, sin da ragazzino, aveva fatto capire le sue doti nel campo della retorica, nel campo della linguistica. Io me ne teneva, cioè, ero orgoglioso di questo. E andava, andava, nel senso dell'Ibam, no? Andavo, ecco, prima persona singolare, con la testa alta. Ecco, sicuramente, diciamo che Leopardi fu uno degli autori in cui proprio si imbatté, in quegli anni intendo dire, ovviamente si imbatté nel senso, come dire, letterario, no? Ma anche, forse incontrò Leopardi, perché Leopardi stava vivendo gli ultimissimi anni della sua vita proprio a Napoli. Ci fu l'incontro, quindi, con Leopardi. Questo primo e ultimo incontro di De Sanctis con Leopardi alla scuola di Basilio Puoti, al sapore di un'investitura. Quando ebbe finito il conte... Ah, sì, ricordate che Leopardi era un conte, eh? Quando ebbe finito il conte mi volle a sé vicino e si rallegrò Meco e disse che io avevo molta disposizione alla critica. E, insomma, tantissime esperienze, anche raccontate in questo libro della giovinezza da Francesco De Sanctis, quindi in una Napoli che era una Napoli che da una parte vedeva il regime borbonico piuttosto statico e tradizionalista, ma dall'altra una serie di intellettuali, appunto Ranieri, Leopardi, Basilio Puoti, eccetera, che sicuramente provocarono Francesco De Sanctis ad una formazione letteraria e intellettuale, direi, solida. Questo è il primo discorso di scuola di Vico Bisi, discorso tratto dallo studio della grammatica. Ecco qui, insomma, riuscirono a trovare a Francesco De Sanctis una sala al Vico Bisi, che è un veicolo, insomma, di Napoli, nella quale veniva la moltitudine. Così cominciò la mia scuola sotto il suo patronato. Quindi comincia a insegnare anche a Napoli. E in verità io sosteneva che la grammatica non era un'arte, ma che era principalmente una scienza. Ecco, dicevamo, un'impostazione molto solida, ecco la sua, anche dal punto di vista, dicevamo, delle conoscenze, per esempio, degli illuministi francesi. Destut de Trassi, Condorcet, giusto per fare qualche nome, ma poi studiò anche letterati, sia francesi, sia tedeschi, tipo, non so, Schiller, Goethe. Ecco, questa è la scuola, no? Ecco, sì, la scuola militare a San Giovanni a Carbonara. Questo fu un altro passo, uno step importante nella vita di Francesco de Sanctis, cioè ottenne un incarico ancora più importante, consistente, che gli permise anche una maggiore autonomia economica in questa scuola militare di San Giovanni a Carbonara, quindi, diciamo, nei pressi di Napoli. Via Rosario a Porta Medina, la casa era bene aerata e piena di luce. C'era un salotto molto capace, dove pensai di tenere la scuola. Ecco, insomma, poi fa scuola, abbiamo detto, in luoghi diversi, però poi si arriva, nel 1839, quindi quando lui è praticamente 22 anni, a questo primo incarico importante presso questa scuola militare. Quando Zio Carlo seppe la mia nomina a professore nel Real Collegio Militare, pianse di gioia, di contentezza, e ricordò che egli aveva cominciato la sua carriera professore, di professore, credo, alla Real Paggeria, dove era il collegio di Marina. Ecco, e Cicillo, insomma, il nome di questa scuola militare, dove anche lo zio aveva insegnato. Tomo Tomo fa il suo cammino, conchiuse, piano piano, insomma, passo passo, Tomo Tomo fa una cadenza quasi da totò, ecco questa, sta facendo i suoi passi, il giovane, così ben addestrato dallo zio, e lo zio ne è orgoglioso. Ci eravamo educati insieme, io avevo per quei giovani un culto, cioè, dice, anche educato insieme con quei giovani, per esempio, che frequentavano questa scuola militare. Sentivo con desiderio le loro osservazioni, i loro pareri, studiavo le loro impressioni, godevo tanto a vedermeli intorno con quei gesti vivaci, con quelle facce soddisfatte. Essi guardavano in me il loro amico, e il loro coetaneo, e mi amavano, perché sentivano di essere amati. Qui abbiamo anche alcuni allievi e amici, tra cui ricordiamo, per esempio, Pasquale Villari, anche questa, diciamo, sicuramente è una famiglia che ci fa venire in mente anche tanti studiosi e intellettuali anche del nostro tempo. Poi arriva il 48. Ebbene, nei primissimi mesi del 1848, i giovani rivoluzionari premono sul regime borbonico, ci sono dei moti. A questo punto sarà costretto anche il re Borbone a firmare una costituzione. Però non si dimenticò che era stato un po' costretto, che c'erano state, insomma, delle violenze, e quindi si ricordò di questo e tolse quindi il re Borbone a Francesco De Sanctis tutti quanti gli incarichi da professore. Ci furono degli anni piuttosto difficili. dopo il 48. Perché poi ci fu la reazione. Che cosa fece durante, per esempio, la guerra di indipendenza? Lui era essenzialmente giù, ancora nel sud. Certe volte, come vi stavo spiegando, dovete anche scappare dal regime, perché il regime ormai l'aveva messo nella sua lista nera Francesco De Sanctis. Poi intanto ci fu la prima guerra di indipendenza invece nel sud Italia. una vasta dimostrazione liberale organizzata a Napoli, ecco, appunto, vi stavo spiegando, il 27 gennaio, il 29 gennaio, tutte queste manifestazioni, dove è proprio protagonista il nostro Francesco De Sanctis, le barricate, eccetera. Io sono andato un po' avanti, no? A dire cos'era accaduto anche qualche tempo dopo. Si formarono gruppi di patrioti. Francesco De Sanctis aderì a questi movimenti di giovani guidati da un certo lavista, no? Che fecero un appello a Ferdinando II perché ripristinasse la Costituzione, perché lui la Costituzione prima l'aveva firmata e poi, insomma, ci aveva ripensato. Sta di fatto, comunque, che, ahimè, purtroppo, nel 15 maggio del 1848 Ferdinando II sciolse il Parlamento, sciolse la Guardia Nazionale, nominò un nuovo governo, proclamò lo Stato d'assedio, la feroce repressione causò circa 500 morti. Tra le vittime illustri proprio questo capo, insomma, dei giovani, appunto, questo tale Luigi Lavista, un giovane scrittore fucilato dai mercenari svizzeri all'età di 22 anni davanti a suo padre. Quindi, veramente, è una situazione molto, molto difficile e complicata per quelli come Francesco De Sanctis che avevano le idee di questo Lavista, cioè, insomma, idee risorgimentali, idee repubblicane, addirittura, e a quanto meno premevano, dicevo, per la Costituzione. Fu coinvolto De Sanctis anche nella setta della Grande Società dell'Unità d'Italia di Settembrini, scrive De Sanctis stesso. Fui la prima volta e sola che fui in quei convegni segreti. La natura non mi tira alle sette, io di per sé non, come dire, non sono portato per le sette segrete, però partecipò a questa anche perché, appunto, c'erano degli ideali comunque di di ribellione, ecco, che venivano portati avanti anche in queste sette, di liberazione dai regimi oscurantisti e abbastanza chiusi come quello borbonico. Il Puoti considerava eccellente la lingua di Leopardi e detestabili però le sue teorie. Sì, ecco, infatti, dicevamo, in questa formazione abbiamo visto un abate, abbiamo visto comunque anche altri intellettuali che comunque avevano delle posizioni certe volte anche da un punto di vista cattolico. per esempio Francesco De Sanctis si riteneva un cattolico aveva degli amici anche negli ambienti ecclesiastici però, ecco, sicuramente questo incontro con i Leopardi fu molto molto interessante. Ecco, a causa di questa partecipazione ai moti rivoluzionari fu licenziato dalla carica appunto di professore del Real Collegio Militare per ordine del re Ferdinando II di Borbone in persona. il ministro nella lettera non usò la parola licenziamento ma ritiro e non spiegò neanche ufficialmente i motivi della decisione. Basta, ormai quello aveva ripristinato in un certo senso un potere tra virgolette assolutistico e quindi cercò di far fuori tutti quelli che in un modo o nell'altro avevano partecipato alle rivolte. De Sanctis gli fu accordata una liquidazione. De Sanctis aveva 31 anni, era nel pieno della sua forza fisica intellettuale eppure veniva collocato a riposo si ordina che la passi a riposo. Ecco qui abbiamo altri personaggi ecco per esempio lui si rifugiò in Calabria perché sapeva di essere ricercato aveva capito benissimo che tutta questa questione insomma del metterlo a riposo eccetera era tutta una scusa e che lui era nel mirino delle forze dell'ordine e che rischiava arrestare lì a Napoli e allora si rifugiò presso questi nobili calabresi che lo accolsero appunto in Calabria. Qui è il palazzo Guzzolini dove gli fu assegnata una stanza con un trabocchetto cioè un rifugio sicuro nel caso fossero arrivati i rastrellamenti delle truppe borboniche. Ah ecco dice e scrive il nostro amico Maurizio Lazzarini De Sanctis incontrò una sola volta ai Leopardi alla scuola del Puoti che delusione quando lo vedemmo un colosso dell'immaginazione ridotto ad una meschinità. Ah ecco attenzione ricordatevi che questi sono gli ultimissimi tempi di Giacomo Leopardi il quale vive questi anni a Napoli come dire in condizioni fisiche sempre più complicate ecco e del resto lui stesso non faceva nulla ecco per curarsi da questo punto di vista quindi immagino ecco che sicuramente il Leopardi negli ultimissimi tempi della sua vita sia apparso al giovane Francesco De Sanctis in maniera veramente deplorevole insomma ecco Don Francesco De Sanctis di Morra qual maestro dell'Annunziatella e qual lettore privato di un numero immenso di giovani dimorava in codesta capitale dopo il 29 gennaio 48 dato si costruì in preda a sentimenti liberali abbandonò le scuole e diede alle stampe un opuscolo pieno di entusiasmo e di liberalismo prese e ziandio parte agli avvenimenti del 15 maggio e infine rimosso dalla segreteria della commissione della pubblica istruzione ed espulso ancora da ogni altra scuola anche privata si recò in Calabria per procacciarsi forse mezzi alla vita cioè per poter sopravvivere ecco poi però ahimè purtroppo fu trovato dalle forze dell'ordine i quali lo imprigionarono e lo incarcerarono e lo tennero in carcere praticamente per circa tre anni durante questa ingiusta detenzione scrisse parole straordinarie sulla necessità del dolore del dolore per il progresso dell'umanità il dolore la fatica il male la morte sono le condizioni essenziali che rendono possibile l'esplicazione progressiva dello spirito ecco attenzione in questa durante questa prigionia infatti lui tradusse addirittura delle opere delle opere di Hegel qui possiamo tra l'altro notare la terminologia di Hegel l'esplicazione progressiva dello spirito fu molto influenzato soprattutto da quella che era la visione della storia di Hegel gli individui soffrono l'umanità vince offriamo con orgoglio i nostri dolori alle future generazioni il dolore umano è seme di libertà né alcuna stilla di sangue è sparsa in darno cioè nessuna goccia di sangue viene versata in vano Francesco de Sanctis in seguito all'istruttore affidata a Cristiano Giambarba commissario della delegazione marittima fu poi riconosciuto innocente fu liberato però solo nell'agosto del 1853 praticamente ci restò tra il 50 e il 53 in carcere per essere poi condannato comunque all'esilio perpetuo dal regno delle due Sicilie dal regno di Napoli insomma da Ferdinando secondo in persona un'altra volta il patriottismo il sacrificio il dolore di Francesco de Sanctis primo ministro dell'istruzione della patria ah sì possiamo anticipare questa cosa attenzione quando poi si costituì il regno d'Italia Francesco de Sanctis fu addirittura il primo ministro dell'istruzione del regno d'Italia e Casati vi ricordate un ministro insomma quando c'era ancora il regno di Sardegna fece una legge importantissima ma Francesco de Sanctis si alleò persino con Cavour che allora era il governo e quindi di Corricasoli una volta che morì Cavour e svolse un ruolo importante di ministro dell'istruzione poi però non fu rieletto un'altra volta e quindi poi ritornò agli studi letterari però poi alternò anche in seguito come dire l'attività politica in prima persona ritornò in parlamento qualche anno dopo a quella insomma di studioso della letteratura ecco La prigione un altro libro che lui scrisse pubblicato a Torino alla fine del 53 composto durante la prigionia e terminato nel 51 è questo il poema di concezione hegeliano che celebra la fede nel pensiero umano e nella libertà ecco tutto intriso dai testi di Hegel incominciò ad avere una visione della storia che era una visione appunto progressiva di grande sviluppo malgrado appunto come si dice certe volte le sofferenze dei singoli questa è la prima pagina del Torquato Tasso dramma in prosa iniziato probabilmente a Cosenza e rielaborato in prigione a Castel dell'Ovo ah si fu imprigionato a Castel dell'Ovo quel bellissimo castello che c'è sul mare a Napoli conserva si conserva questo testo nella biblioteca nazionale di Napoli nel 1953 fu condannato all'esilio come abbiamo spiegato imbarcato su una nave diretta negli Stati Uniti ma grazie all'aiuto di amici riuscì a fermarsi a Malta e poi ad espatriare nel Piemonte che mano mano stava diventando sempre più liberale erano gli anni appunto vi dicevo dei governi Cavour e quindi anche di alcune leggi che andavano in quella direzione insomma di rendere decisamente meno tradizionalista lo stato sabaudo si aggregò al gruppo di esoli meridionali da Bertrand Spaventa al giurista conterraneo Pasquale Stanislamo Mancini a Ruggero Bonghi sbarca a Malta e poi va a Torino Torino l'unificatrice così ormai è intesa da tutti gli spiriti risorgimentali che vedono hanno speranza hanno speranza che Torino quindi il regno di Sardegna possa essere il nucleo fondante del prossimo regno d'Italia il Piemonte era diventato la meta necessaria il punto di partenza l'Italia era colà rimase lì a Torino fino al marzo del 1856 poi fece degli studi su Dante talmente brillanti che ebbero un certo successo anche al di fuori di Torino tanto che addirittura il Politecnico di Zurigo lo chiamò in qualità di professore appunto di italiano e qui fu nominato diciamo professore di letteratura italiana all'Ecole Polytechnique Federal di Zurigo le lezioni dovevano cominciare il 15 aprile del 1856 questo è il documento appunto di assunzione del nostro Francesco De Santis che ci rimase quattro anni a Zurigo a studiare letteratura a insegnare a approfondire appunto vi dicevo discorsi su Dante ma non solo per esempio ancora sul poema cavalleresco quindi sull'Ariosto su Arthur Schopenhauer e Leopardi apologia del poeta di Recanati a confronto con il filosofo tedesco Schopenhauer considerato un reazionario con il suo pessimismo ritenuto inerte e passivo quello di Schopenhauer mentre invece il pessimismo leopardiano pensiamo per esempio alla ginestra come foriero anche di una sorta di solidarietà fra gli uomini la lettura dei suoi versi affermava infatti De Santis suscitava per contrasto forti sentimenti di amore per la libertà ah sì lui dice che comunque anche se in una maniera un po' paradossale Giacomo Leopardi è stato un grande poeta italiano e quella che era l'apparente pessimismo insomma dei suoi testi in realtà per reazione suscitava sentimenti di amore e di libertà ecco come dire alcune donne sono delle allieve di Torino con le quali continua ad essere in corrispondenza Francesco De Santis anche quando fa l'insegnante a Zurigo De Santis ma sopporta di vivere tra colleghi e studenti che hanno abitudini assai differenti questi zurichesi dalle sue è tormentato dal ricordo dell'amore che nutre per la sua ex allieva quasi quarantenne per la dolce alunna quindicenne quasi quarantenne lui innamorato della dolce alunna quindicenne Teresa di Amici se qui insomma gli scritti le lettere a questa donna e qui abbiamo tanta tanta nostalgia però ecco è chiaro che essere lì a Zurigo gli permise di essere in contatto con la cultura mitteleuropea stiamo parlando per esempio del grande compositore Wagner oppure di altri intellettuali come Tilde Wesendock Moleschot e insomma altri che ebbe modo di conoscere e anche di valutare criticamente prese comunque le distanze dall'irrazionalismo di Wagner e di Schopenhauer molto prima che le mode irrazionalistiche toccassero l'Italia cercando di capire i limiti concreti del ribellismo dei mazziniani ah sì ecco questi furono anche gli anni in cui risultò evidente che i metodi mazziniani di giungere al grande sogno insomma della unificazione italiana erano piuttosto limitati ecco mettiamola così e questo quindi dicevamo fu un momento in cui si accostò a posizioni più di compromesso con dicevamo anche per esempio il potere Sabaudo quindi insomma ricordate quello che abbiamo detto riguardo la società italiana persino Garibaldi che si avvicina un po' a Cavour il connubio di Cavour del centro-destra con quelli di centro-sinistra di Rattazzi eccetera 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 e lui si trova un po' in questa scia di pensiero anche politico Francesco De Sanctis questo è il passaporto rilasciato a Monsieur De Sanctis dallo stato di Zurigo due lettere di De Sanctis da Zurigo al presidente Rappler per annunciargli l'impossibilità di continuare le elezioni al Politecnico ah sì siamo nel 1860 è il momento in cui finalmente può ritornare in Italia quindi spiegano le sue dimissioni da questa carica di insegnante in questo Politecnico di Zurigo intanto sappiamo bene che cosa succede in quel 1860 quindi impresa dei mille unificazione in un certo senso l'Italia annessione anche del Regno delle Due Sicilie al Regno di Sardegna lui che si unisce al partito d'azione ecco di Giuseppe Mazzini ecco però vi dicevo con un Mazzini che effettivamente da un punto di vista politico perde un po' di operatività ecco non siamo più ai tempi del 48 o del 49 della Repubblica Romana siamo ai tempi in cui si porta avanti un progetto di compromesso ecco il 9 settembre 1860 la nomina con poteri illimitati di De Sanctis a governatore della provincia di Avellino ecco abbiamo detto che si mette in politica in questo periodo ovviamente sulla scia di quello che sta avvenendo nel sud d'Italia nella sua terra dove ha anche degli incarichi diretti proprio anche di governo per questa nascente compagine chiamiamola così statale che poi diventerà nel giro di qualche mese appunto il regno d'Italia eccolo qua in qualità di governatore della provincia di Avellino il 9 settembre 1860 Avellino a quel tempo fu teatro di una serie di episodi di denunce di delatori espressione dell'ostilità al nuovo regime ecco lo sappiamo molto bene tra le varie regioni del sud d'Italia la Campania fu proprio uno di quelle un po' più ostili ai Savoia ai piemontesi però abbiamo detto che invece assolutamente Francesco De Sanctis che era di solida fede insomma risorgimentale cercò invece di tenere la barra dritta fu nominato poi il 27 settembre ministro o direttore dell'istruzione pubblica a Napoli attenzione qui a Napoli poi dopo ve l'ho già anticipato che diventò addirittura ministro dell'istruzione del Regno d'Italia poi però doveva lasciare la sua terra con cui sentì forte il suo legame ci sono venuto con indifferenza dalla mia terra ma me ne parto con dolore era sì bello era così bello per me dedicarmi al bene della mia provincia la provincia appunto di Avellino ecco ovviamente quelli furono anche gli anni dei referendum dei plebisciti per l'annessione italiana e anche da questo punto di vista Francesco De Sanctis si mette in prima persona per sostenere questa campagna politica ecco diciamo il 21 ottobre si tendero queste votazioni per questo plebiscito lui non se l'aspettava ma ci fu una forte grandissima stragrande maggioranza appunto dei napoletani insomma dei campani che alla fine votò proprio per l'annessione al Regno di Sardegna sposò nel 1863 la baronessa Maria Testa Arena I nella chiesa di Santa Maria della Natività sita nella villa reale di Portici e questo il certificato di matrimonio di Francesco De Sanctis questa è una lettera di Maria quindi di sua moglie a Francesco De Sanctis del 64 ecco scrisse per tantissimi giornali Il Cimento e tanti giornali soprattutto piemontesi ecco devo dire la verità e quindi era in rapporti l'abbiamo già detto con intellettuali come Luigi Settembrini no? e quindi scrisse articoli questo è il mondo illustrato un altro giornale questa è la lettera di Giuseppe Mazzini al nostro De Sanctis che nel frattempo era diventato ministro dell'istruzione e anche il nostro Mazzini un po' quello che è un andazzo un po' tutto quanto italiano chiese una raccomandazione a De Sanctis per il proprio per un proprio nipote qui abbiamo nel 1871 l'aumento di un decimo di stipendo di De Sanctis che nel frattempo stava scrivendo anzi aveva già terminato proprio nei primi mesi del 71 il suo capolavoro la storia della letteratura italiana qui nomina al socio dell'Accademia Beneventana altre lettere risposte epistolari sui quali adesso non vorrei soffermarmi più di tanto qui abbiamo anche dei testi letterari e anche descrizioni di paesi da parte di Francesco De Sanctis ma devo dire la verità a me interessa adesso chiudere la biografia e passare un po' a questo capolavoro che è la storia della letteratura italiana infatti nel 1881 colpito da una malattia agli occhi Francesco De Sanctis cominciò a dettare alla nipote Agnese le sue memorie l'opera venne interrotta per portare avanti lo studio su Leopardi uscito anch'esso postumo e non fu più ripresa per la morte dell'autore che sopraggiunse nel 1883 l'opera rimane pertanto incompiuta e si ferma al 1844 ecco qui altri ricordi insomma di quelli che sono stati anche gli ultimi momenti insomma di Francesco De Sanctis e poi una frase programmatica con la quale veramente chiudiamo la biografia De Sanctis scrisse infatti la vita è azione ma solo la dignità è la chiave della vita e l'onestà è la prima qualità dell'uomo politico ecco questi sono anche in sintesi un po' tutte le date della vita dell'esistenza di Francesco De Sanctis ma adesso è arrivato il momento di parlare della sua storia della letteratura basata sulla famosa dialettica di Hegel andiamo adesso un pochettino a tirar su la nostra faccia anche se ci vediamo di meno però almeno vediamo questi dipinti che ho preparato per voi che cosa ci rappresentano questo senz'altro Hegel in particolare nella storia appunto scriveva De Sanctis ma sulla scia delle idee di Hegel si manifestano due modalità di ragionamento dialettico una quando si osservano le relazioni tra più elementi nel loro divenire storico un'altra quando si riflette su un singolo elemento insomma la storia non è qualcosa di statico ma è un corpo vivo in movimento in continua mutazione nel divenire ogni nuovo elemento viene introdotto sempre mettendo in luce gli elementi che lo differenziano con ciò che immediatamente lo precede nel contempo l'elemento precedente viene sempre rivalutato alla luce di ciò che lo segue in ogni tesi ecco che qua appunto io non sono un docente di filosofia ma avrete in mente insomma la triade di Hegel tesi, antitesi e sintesi ecco poi ancora in ogni tesi dicevo è presente la sua antitesi in ogni elemento visto singolarmente è sempre presente parte del suo opposto come se ogni cosa non fosse mai costituita di una sola sostanza ma sempre di una sostanza maggioritaria e del suo opposto attenzione queste teorie queste cose che potrebbero sembrare un pochettino astratte diventano invece per lui la lente attraverso la quale lui osserva tutta quanta la storia della letteratura italiana quindi un elemento chiamiamolo così una tesi subito dopo un'antitesi facciamo un esempio dopo Dante Petrarca che è antitetico rispetto a Dante e poi la sintesi boccaccio qui adesso sto veramente adesso semplificando enormemente però lui cerca di leggere la storia della letteratura in questo modo cioè attraverso il metodo della dialettica hegeliana ma è stato il primo lui a scrivere una storia della letteratura ce l'era stato qualcun altro ad esempio Girolamo Tiraboschi no? oppure il Cantù però ecco si arriva poi alla sintesi di De Sanctis infatti queste storie della letteratura precedenti erano più che altro storie delle idee De Sanctis è stato il primo a fondere nella sua storia la direttiva storica da una parte senz'altro ma anche senz'altro l'aspetto letterario quindi non è solo storia delle idee ma è la prima critica un giudizio critico sulle opere in base a quale criterio ecco il criterio che lui cerca di osservare sono quelli che derivano anche dalla sua esperienza e dal suo tempo quindi per esempio una concezione di uomo che lui definiva così l'uomo totale che ha saputo sviluppare in massimo grado in assoluta sintesi tutte le sue virtù intellettuali poetiche artistiche morali spirituali e creative il modello sicuramente è Dante il problema della democrazia nel senso del rapporto tra le classi sociali che porta De Sanctis a denunciare il baratro tra le classi sociali quindi l'ingiustizia la disuguaglianza che troppo spesso ha caratterizzato la nostra letteratura e quindi a svalutare le forme troppo apertamente erudite lui non poteva sopportare l'arcadia i puristi insomma tutti quelli che consideravano e concepivano la letteratura come qualcosa di avulso dalla società dalla storia dalla realtà gli autori ecco De Sanctis opera così lui diceva ciò che occorre domandarsi ogni volta che si osserva come De Sanctis valuta un autore è questo tale autore o questo tal'altro riflette l'ideale di uomo totale che ha sviluppato in massimo grado e in assoluta sintesi tutte le sue virtù intellettuali poetiche artistiche morali, spirituali e creative esprime egli un'umanità piena oppure no dicevamo Dante sì sicuramente lui è un uomo totale ha fede ha sincerità ha forza morale ha cultura ha saggezza ha una percezione sia dell'ideale sia però anche del reale quali sono i limiti di Dante? troppa fede in una concezione sbagliata della vita crede più nello spirito che nel corpo sopravvaluta l'allegoria alla rappresentazione del reale c'è un conflitto continuo tra l'uomo da una parte e il poeta dall'altra tra la ragione e la fantasia tra figura e figurato mi viene in mente ovviamente anche il giudizio di Croce che pur partendo da presupposti decisamente diversi era un po' meno concreto Croce è un po' più interessato alla bellezza della letteratura però anche lui aveva individuato in Dante alcune antitesi insomma alcune contraddizioni sicuramente però ecco dopo quest'uomo totale che questo bisogna dire lo ammette Francesco De Santis c'è un uomo diviso che è Petrarca un uomo di una fase di passaggio Petrarca si divide soffre di una forte lacerazione interiore dovuta alla diciamo così alla dinamica tra l'uomo e l'artista una sintesi non c'è mai stata non c'è mai stata la sintesi appunto tra queste due tra queste dicotomie teniamo presente sempre che stiamo parlando di un processo quello della storia della letteratura italiana che è agli albori e quindi il nostro De Santis individua comunque i limiti l'allegoria di Dante le dicotomie di Petrarca perché sa che nel corso della storia ci sarà uno sviluppo quali sono però i pregi indubitabili di Petrarca abbiamo l'artista che cerca e trova la perfezione nella forma finita sicura chiara coerente Petrarca ritrova una profondissima dimensione interiore e la rappresenta scrutandola nei minimi dettagli il canzoniere è un'occasione per scrutare non solo le profonde pieghe della sua anima ma anche di descrivere la sua donna non più allegoria quindi troppo teologica la Beatrice descritta da Dante molto più vera e reale la Laura di Petrarca ma anche Petrarca ha i suoi limiti un contenuto debole contraddittorio la forma esteriore vuota e formalistica senza un contenuto forte se da una parte lui ammira il nitore formale di Petrarca dice però che a un certo punto diventa un po' fine a se stessa Boccaccio qui la scissione interiore aumenta se Petrarca infatti è uomo diviso in Boccaccio l'uomo è inferiore all'artista quindi diciamo che c'era una grande stima di Dante come uomo come abbiamo spiegato man mano parlando di Petrarca e di Boccaccio si arriva anche a una critica insomma di quello che è la persona in sé i pregi sono quelli della sparizione di una concezione universalistica provvidenzialistica della cultura della fede la sparizione dello spiritualismo eccessivo precedente per lasciare spazio al reale alla natura ma ci sono anche dei limiti in Boccaccio se da un lato il reale viene riabilitato sparisce la profondità di pensiero l'estasi anche della poesia precedente questo svuota alla letteratura di contenuti importanti e poi si passa al rinascimento prima ancora di arrivare ad Ariosto l'epoca che l'ha preceduto un'età della pura forma del puro piacere superficiale e disinteressato diciamo che quindi abbiamo detto che tutte le volte che la letteratura esalta un po' se stessa è il caso dell'umanesimo come quello dell'Arcadia De Sanctis è profondamente critico condanna anche questo periodo non è solo una questione del latino se gli italiani avessero avuto qualcosa da dire lo avrebbero fatto anche il latino ma il popolo non c'è in questo periodo dell'umanesimo del rinascimento il popolo non emerge questa situazione trova il suo esatto corrispettivo nella politica l'Italia è sempre più governata da stranieri e allora vuol dire che il popolo italiano è debole tuttavia in questo periodo ci sono delle figure che per Francesco De Sanctis sono veramente di grande rilievo è il caso per esempio di Ariosto lui scrive l'Orlando Furioso che per Francesco De Sanctis è il più grande capolavoro della letteratura italiana dopo la Commedia di Dante Ariosto sa stare sopra il mondo sa dominare il mondo con assoluta padronanza con ironia con ironia scusate senza mistificazioni cammina verso il moderno e si allontana sempre più dal medioevo però anche lui ha dei limiti è un po' vuoto interiormente non ha quella profondità che magari può avere abbiamo visto un Dante o anche un Petrarca non ha tutti i valori non ha non prova amore non ha ideali è tutto orientato dice De Sanctis verso la forma dunque anche la sua letteratura è vuota ride di tutto senza appassionarsi di niente poi abbiamo Torquato Tasso ecco Torquato Tasso esattamente come Petrarca è un uomo di una fase di passaggio di un'epoca tormentata quindi Tasso è diviso così come era diviso Francesco Petrarca la sua fede non è convincente la sua religione non è realmente sentita ma è solamente letteratura questa liberazione del sepolcro è solo uno uno spunto ecco la divisione si riflette nella poesia mentre cerca l'epica in realtà trova la lirica mentre cerca il reale trova il fantastico tuttavia dice dice De Santis è un grande poeta italiano forse l'ultimo grande poeta italiano prima dell'ottocento poi facendo dei balzi un po' avanti indietro nel tempo adesso seguiamo quello che probabilmente sono i capitoli di questo libro questo libro tra l'altro era stato pubblicato in due volumi con una certa fretta perché l'editore premeva e quindi passiamo adesso al capitolo su Metastasio quali sono i pregi della letteratura di Metastasio come sappiamo è stato un poeta del settecento e ha scritto anche dei testi per delle opere liriche come per Ariosto quindi fa un parallelo con Ariosto apprezza la grandissima maestria artistica di Metastasio apprezza la sua eccezionale popolarità quindi soprattutto con questi libretti d'opera per esempio paradossalmente il suo eccesso di popolarità per De Sanctis diventa positivo perché è del tutto inusuale che la poesia di un artista riesca a penetrare così a fondo nella coscienza del paese e insomma lui esalta alcune figure come l'aretino come Metastasio che poi invece diciamo nella storia della letteratura hanno nel corso dei secoli acquistato una dimensione decisamente meno importante ecco Machiavelli sì invece Machiavelli è importante per De Sanctis così come importante ancora anche per noi è il momento di una svolta all'interno di questo libro la storia della letteratura italiana che è anche quasi quasi una specie di romanzo cioè molto scorrevole ecco nel suo modo l'abbiamo visto anche di scrivere Francesco De Sanctis e quindi ci rappresenta la storia della letteratura come un romanzo che ha tanti protagonisti è storia di artisti diciamo di poeti questa storia della letteratura anche se l'aspetto storico come abbiamo detto è importante per De Sanctis ecco abbiamo detto che a un certo punto lui avrebbe voluto fare un terzo volume ma l'editore si impose e disse no guarda devi sbrigarti devi finire questo secondo volume perché per motivazioni editoriali non ne possiamo fare un terzo e così da quel punto in poi De Sanctis modifica il suo modo di procedere non più un capitolo per ogni opera tipo Orlando Furioso la Commedia o Autore uno un capitolo su Petrarca uno su Boccaccio come aveva fatto finora ma due grandi capitoli dedicati allo sviluppo del pensiero filosofico e scientifico in Italia se fino ad allora la letteratura aveva seguito una linea discendente da Dante fino a Metastasio De Sanctis nota invece che dal Cinquecento in poi il pensiero italiano aveva dato luogo a una continua crescita traccia così una storia del pensiero critico da Machiavelli ai nostri giorni e Machiavelli e Galileo per lui sono veramente due soli splendidi che illuminano questa ascesa insomma del pensiero Machiavelli prima di tutto che De Sanctis considera il primo grande pensatore moderno colui che inaugura un nuovo modo di concepire il mondo lo stato la nazione governato dalla ragione dell'uomo e non da forze esterne Machiavelli è precursore di Hegel nella sua concezione della storia in confronto a Machiavelli Guicciardini è considerato un utilitarista tutto volto alla cura del particolare non aveva capito molto bene il Guicciardini e quindi l'aveva veramente molto denigrato nei confronti di Machiavelli attenzione però che il nostro Francesco De Sanctis è stato anche quello che ha coniato quella famosissima perifrasi del fine giustifica ai mezzi che divenne talmente importante e incisiva che da quel momento in poi per parecchio tempo si pensò che fosse una frase di Machiavelli invece in realtà l'aveva inventata lui l'aveva inventata De Sanctis perché aveva interpretato così l'opera di Machiavelli sta di fatto comunque che adorava Machiavelli perché Machiavelli aveva concepito per primo l'idea che l'Italia potesse riunificarsi sotto la guida di un principe perché era concreto e a De Sanctis piaceva molto la concretezza perché era appunto dicevo era un nazionalista e perché era un uomo di ragione la stessa cosa si può dire anche per Galileo Galilei nel senso che affronta il discorso sulla nuova scienza parla di Giordano Bruno per esempio e insomma reputa opportuno in questa storia della letteratura parlare di quegli uomini che hanno prestato il loro contributo al progresso dell'umanità così parla di quelli che hanno accompagnato l'Italia a fare propri i principi dell'empirismo quindi dell'esperienza il metodo scientifico lasciandosi alle spalle il razionalismo aristotelico e quello dogmatico dell'ipsedixit precedente e quindi oltre che a fare riferimento dicevamo a Galileo il nostro grande scienziato italiano addirittura proprio in questa storia della letteratura fa filosofia ed esalta l'empirismo inglese di John Locke George Berkeley e David Hume che negavano che gli esseri umani potessero avere idee innate o che qualcosa sia conoscibile a prescindere dall'esperienza e l'esperienza quindi i sensi e l'esperienza che determinano la conoscenza umana l'empirismo si sviluppò in contrapposizione al razionalismo corrente filosofica il cui esponente principale era stato Cartesio secondo i razionalisti la filosofia dovrebbe essere condotta tramite l'introspezione e il ragionamento deduttivo a priori secondo gli empiristi invece si considera alla base del metodo scientifico l'idea che le nostre teorie dovrebbero essere fondate sull'osservazione del mondo piuttosto che sull'intuito o sulla fede ecco quindi con un accostamento forse un pochettino tirato tra virgolette come dire paragona o affianca insomma l'empirismo a quello che è il metodo scientifico quindi che che si fonda sull'osservazione e sull'esperienza contrapposto alle teorie astratte associate invece dicevamo al razionalismo e poi qui c'è una come dire non può dedicare come avrebbe voluto probabilmente un capitolo per ciascuno dei grandi della letteratura italiana del settecento o dell'ottocento come avrebbe voluto e quindi crea semplicemente un capitolo intitolato la nuova letteratura in cui si troveranno Goldoni considerato il Galileo della nuova letteratura per aver restituito alla parola il suo legame con la realtà mancano però a Goldoni una dimensione interiore una profondità spirituale indispensabile per il dramma e anche gli manca una coscienza critica forte poi il Parini molto molto esaltato dal nostro De Sanctis con Parini infatti ritiene De Sanctis rinasce l'uomo totale perfetta congiunzione di intelletto e azione che si rispecchia in una poesia di grande spessore nel contenuto anche se l'uomo a dir la verità vale più dell'artista quindi una poesia sicuramente significativa importante ma non così grande come quella appunto vi dicevo non so anche di Tasso oppure di Dante un discorso simile dedicato ad Alfieri anche lui grande uomo apprezzato per la natura ardente il patriottismo l'odio per la tirannide ma non un uomo completo perché è un cuore pieno ma la mente ignuda cioè gli manca la scienza della vita poi c'è Vincenzo Monti considerato incompleto per mancanza di carattere ed impulso morale lo sappiamo un pochettino anche diciamo incoerente nelle sue scelte politiche persino Foscolo viene apprezzato solo per i sepolcri dove viene affermata la coscienza dell'uomo nuovo e non per gli altri suoi straordinari capolavori come i sonetti poi Manzoni finalmente un uomo completo nelle sue opere gli inni sacri il 5 maggio i promessi sposi qui la nuova letteratura rinasce veramente Leopardi annuncia con il suo scetticismo la morte definitiva di quel mondo teologico metafisico ed inaugura l'ingresso dell'arido vero e del reale e poi il realismo che è anche se vogliamo la letteratura prevalente al suo tempo lui scrive e lo ricorda anche nella storia della letteratura scrive proprio mentre arrivano le notizie della breccia di Portapia di cui parleremo la prossima volta che faremo storia dell'ottocento scrive mentre si sviluppa in Italia soprattutto la corrente letteraria del verismo a questo proposito scrive De Sanctis due sono le concezioni del realismo o meglio del reale uno l'imitazione della natura secondo il canone classico in opposizione con la declamazione retorica res non verbo due l'espressione della storia e della natura De Sanctis applica l'aggettivo reali ad autori molto diversi tra loro e quindi qui fa un excursus ritornando indietro nel tempo da Cavalcanti a Manzoni intendendo per tutti che si tratta di autori vivi e concreti che non coltivano la pura immaginazione o il culto della forma o l'allegoria come faceva Dante o l'immaginazione fine a se stessa rifiute però il termine verismo vero non è solo il reale ma anche l'ideale il verismo è un concetto chiuso di un destino che si avvita su se stesso senza via di scampo il realismo di De Sanctis invece tiene sempre presente lo spirito del mondo una forza interna che dà luogo anche a rivoluzioni e a cambiamenti